finalmente il ministro andrea costa ha convocato ufficialmente il tavolo tecnico sulla cannabis ad uso medico partiamo subito da un presupposto secondo noi non è sufficiente ragionare solo in questi termini come non era sufficiente ragionare solo nei termini di tavolo tecnico per la cannabis ad uso industriale che ancora in vigore il tavolo tecnico ma attenzione riteniamo necessario comunque sviluppare queste situazioni non sono abbastanza non sono necessarie fondamentali importantissime e quindi sicuramente le sosteniamo e cerchiamo di interagire ovviamente non essendo ancora invitati perché comunque non riguardiamo solo uso medico come associazione non riguardiamo solo uso industriale non ci invitano su tutte le sostanze insomma ci considerano ben poco ma noi comunque grazie al lavoro di tante realtà aziende associazioni amiche e che sostengono l'associazione free with riusciamo comunque a lavorare in questi tavoli tecnici a portare la nostra voce e a sostenere la voce ovviamente di chi è presente che lavora con conizione intelligenza e raziocinio e sempre ringraziamo per la collaborazione che si sta portando avanti questo è ottimo su tutti e due i tavoli ma ritornando al punto il 14 di dicembre si convocherà il tavolo tecnico per la cannabis ad uso medico ovviamente rimarrà esclusivamente solo su questa tematica non si parlerà di autoproduzione dimentichiamocelo ma sicuramente il nostro compito è anche tramite le associazioni ad uso medio conosciamo cannapacaffè con invitato pazienti cannabis medica sicuramente delle associazioni che lavorano con i pazienti e che chiedono anche a livello di sviluppo una terapia più aperta chiamiamolo così ok quindi con la distribuzione regionale con la produzione regionale ma anche in futuro una produzione casalinga autorizzata perché no sul piano medico però questo abbiamo capito che ormai si incardina in un ambito più totale di liberalizzazione per tutti e quindi ovviamente poi bisognerà convogliare questi sforzi su questo ma rimanendo al tema si può comunque tentare di produrre di proporre non di produrre di proporre l'autoproduzione ma è difficile che venga accolta e allora probabilmente si lavorerà su risolvere in questo tavolo tecnico le carenze la distribuzione e magari cercare di spingere sulla produzione nazionale sempre diffusa agli enti regionali quindi cominciare ad ampliarla che oggi è soltanto a firenze la distribuzione la produzione nazionale insomma è centralizzata poi relegata alle farmacie così potrebbe cominciare ad ampliare questa situazione anche se credo personalmente che toglierla dalle mani delle sole farmacie sia complesso per l'uso medico si può al massimo cercare di ampliare la produzione nazionale ossia distribuendo vari punti autorizzativi in varie regioni ma non pensiamo che ce ne possano essere tanti secondo noi potrebbero essere due o tre a livello di ogni regione anche perché ricordiamo mentre si fa tutto questo poco tempo fa hanno praticamente riordinato dall'estero di nuovo i quantitativi che mancano e ancora non si sa se arrivano eccetera eccetera intanto a dicembre gennaio i pazienti sono ancora senza terapia e la devono pagare molto altre regioni non hanno ancora allineato altre ancora di qui altre di là stiamo facendo approfondimenti importantissimi in qualcosa che uscirà l'anno prossimo vi lasciamo in sospeso questo ma sicuramente non c'è una normativa chiara ad uso medico c'è ma non è chiara non è usufruibile non è chiara anche per il paziente soprattutto ci sono difficoltà per reperire il prodotto per utilizzarlo per avere una continuità chiara questo si affronterà nel tavolo tecnico del 14 di dicembre una situazione che si è già sviluppata dal 24 di novembre quando il ministro andrea costa aveva detto praticamente il sottosegretario andrea costa aveva diffuso questa situazione di aprire la sua civile appunto coinvolgendo anche le società e le associazioni che hanno pazienti ad uso medio che sostengono questa cosa per interagire per risolvere questi problemi per cercare di farlo ci auguriamo non sia solito tavolo tecnico tanto per fare ma per cercare di concludere qualcosa ecco perché è importante interagire comunque dare dare conto di queste cose dare anche un po di forza a queste situazioni non sempre partire un po demoralizzati come potrebbe essere perché rimane un po troppo esclusivizzata la situazione ma potremmo sicuramente fare di più ma non bisogna demoralizzarsi allora lavoriamo anche in queste direzioni e vediamo di andare a cercare di far capire che poi serve una normativa nazionale che incardini bene tutte le situazioni soprattutto per il consumo e l'uso personale per comunque poi l'uso medico sì ma poi trovano comunque cannabinoidi poi se in giro con il fiore eccetera eccetera sappiamo già bene queste situazioni alla grandissima e cerchiamo quindi di portarle anche al tavolo tecnico per cominciare a far ragionare su queste situazioni interne e esterne all'uso medico che insomma poi vengono scorrelate ma in realtà sono correlate ma in realtà poi sono anche uso normale eccetera eccetera e bla 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 insomma cercare di far aprire la mente di spezzare insieme lo stigma bisogna lavorare anche su questo bella free withers vi terremo ovviamente aggiornati fino alla libertà una notizia che è arrivata all'ultima ora la aggiungiamo al volo nel video incredibilmente dato che la produzione italiana era già a livelli eccelsi è stato dinamato un comunicato nel quale si informa che per l'anno prossimo per il 2022 la produzione nazionale italiana di cannabis ad uso medico per lo stabilimento di firenze che è appunto ad oggi l'unico autorizzato diminuirà da 500 kg a 400 kg quindi questo è ma incredibile ma se hanno appena fatto il bando abbiamo appena parlato che serve tutto questo e poi serve anche fare l'importazione ci sono i bandi di importazione se diminuisce la produzione nazionale questa è la notizia pazzesco a 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